... ...che nasce e si sviluppa, è così nata una collaborazione tra due aziende, la nostra Itazon che è sempre presente in queste manifestazioni e l'altra azienda che vorrei chiamare in rappresentanza Davide Cuttini, uno dei responsabili commerciali di ricerca e sviluppo per Agrodron che è il nostro partner e è di fatto un progetto di spesa che vedrà nascere insieme, farà nascere insieme questo prodotto. Faccio partire le slide, vi presento un drone Agrodron, è in realtà un progetto Agrodron che prevede appunto il ripiego di alcuni nostri droni ottimizzati per questo tipo di campo, faccio andare avanti la slide. Di fatto il mondo dell'agricoltura è sempre, negli ultimi anni se ne parla, se ne è parlato sempre di più, alla ricerca di soluzioni reali e concrete per, diciamo così, ottimizzare alcuni processi già noti con soluzioni. La nostra visione ovviamente, che poi è, che corrisposta a quella che è la reale domanda è che di fatto i droni possano aprire molti vantaggi favoriti da una normativa che prevede appunto dei scenari di impiego non critici, quindi molto attenenti al programma di ricoltura, un reale ridotto impatto ambientale di energie impiegate, una potenzialità di impiego sempre più ampia, concreta anche grazie all'avvento di nuove tecnologie e soprattutto efficienza e costi inferiori rispetto ai sistemi convenzionali e questo ovviamente è un aspetto molto importante soprattutto visto in questi tempi. Chi siamo? Agrodron nasce dalla fusione, diciamo, da un progetto di rete di imprese tra due aziende che tengo a sottolinearlo sono di fatto due start-up attivate già diversi anni in questo settore, una è Agro Technology, un'azienda specializzata anche a creare la concentrazione di sistemi e attività di avere e come giustamente diceva Luciano Castro ha contribuito attivamente con Key History a sviluppare in maniera anche molto massiccia, attività in ambito agricolo, Intergron è ovviamente una opera della mia società ed è la società diciamo che da giù che opera e sviluppa sistemi PR, mobili di attività giù remoto con vari servizi e soluzioni diciamo tagliate su misura per l'utente e i fini. L'obiettivo è quello di lanciare questa soluzione per l'avventura Agro. Posso andare avanti le slide, grazie. Cos'è e a chi, cioè cosa può fare? È un drone multivuolo, questo è importante perché vediamo che si presentano tutti gli effetti sia come una macchina che può trasportare un payload spargitore, spargitore non è una cosa banale perché quando si è in volo è fondamentale spargere in maniera grande e precisa il prodotto di interesse che può essere il tricogramma o altri prodotti, anche questo è importante perché la versatilità e la possibilità di guardare se non al mercato è un elemento sicuramente di anti-interesse e può comunque risolvere sempre in maniera semplice e veloce altre questioni sempre legate all'agricoltura meno attiva e più massiva, quindi di imprecisione più nota sicuramente, quindi trasportando sensori da i classici sensori fotografici, i sensori fotografici fino ad arrivare a sensori multispetrali e termocamma, poi vediamo un po' più di preciso questi e che vantaggi possono offrire. I punti di forza molto importanti perché di fatto rappresentano un elemento che deve tornare in quello che è l'attività quotidiana dell'agricoltura e che di fatto è richiesto, basta pensare al trattore che richiede praticamente zero contenzione, pochissima contenzione, è una macchina che può lavorare in qualsiasi condizione e questo è importante e noi abbiamo voluto trasferire questi concetti in un oggetto che vuole, ovviamente non è facile, però abbiamo cercato di fare sicuramente riferimento al mercato dell'agricoltura tenendo proprio a mente questi aspetti, quindi può operare in condizioni difficili grazie a una carinatura che lo protegge da polveri unità, il fatto è classificato come B53, è sicuro grazie ad una sensoristica di ridondante, cosa da non sottolineare perché di fatto se c'è un problema, una failure, la ridondanza è una garanzia diciamo che questo non prende e parte e inizia ad andare dove l'operatore non vorrebbe, sicuro, affidabile, robusto perché è una struttura di volo, un avionico e un elettronico estremamente sovradimensionata, quindi capace di lavorare in un altro range di temperature con capacità anche di resistere a stress fisici proprio esattamente dal fatto che deve sollevare tutto il peso e può operare ovviamente rispetto del regolamento ENEC in particolar modo per quello che riguarda i scenari non critici. è versatile come dicevamo prima perché può azionare l'indersi payload e non è capace di garantire una buona autonomia, parliamo di 20 minuti continuativi con ogni pacco batteria e un'altra cosa importante, le batterie, adesso questa è una versione che sarà migliorata da questo punto di vista ma di fatto il progetto è già pronto, permetterà di avere un sistema smart plug che di fatto renderà molto agevole e rapido il cambio delle batterie proprio perché questo deve lavorare ore ed ore in maniera continuativa ovviamente l'autonomia è un po' il limite di tutti i sistemi ABR ma se io ho un sistema rapido di cambio delle batterie questa è facilmente sopravvibile. Le applicazioni nel concreto e poi vorrei passare la parola a Davide e vi interrerò un pochino più in dettaglio delle applicazioni, a cosa serve questo domani, a quali vantaggi può offrire? L'autonomia lateralide, il fatto, sicuramente avete sentito, dei key history dell'anno scorso, 2014 a Mantua, 200 ettari cosparsi con questi tricogramma, queste palline di cellulosa che hanno fatto dei vantaggi concreti nel miglioramento, diciamo, del contrasto all'aperalio del mais, dispersori di granulari o altri sapiutiche e diversatile dal punto di vista non solo per un prodotto, analisi della coltivazione con sensori speciali, come dicevamo prima, termocamere e rispettrali, ispezioni di impianti portovoltaici, proprio perché in questo senso è un mondo, diciamo, attività dell'agricoltura, anche se non è esattamente agricolo, ma in qualche modo le inculture sono spesso e volentieri ricche di pianti portovoltaici che poi, a cominciare a dire anche qualche anno, perché abbiamo precisato di città di confezione. L'ispezione è un valore aggiunto importante che si avvicina all'agricoltura. Mapping per creare mappe, per muovere, diciamo, macchine pericolore autonome con assoluta precisione, facendo evitare ostacoli presenti su quello che è il percorso, proprio attraverso delle mappe con risoluzione vicine al centimetro per pizzer, quindi molte le varie. Ovviamente un aspetto che è fondamentale è l'implementabilità futura di nuove applicazioni, perché, diciamo così, è un prodotto che ha una piattaforma universale che potrà essere allargata con applicazioni senza dover cambiare il metto, ma semplicemente sostituendo il failure. Un po' come avviene di fatto agli intrattori. Al fine, i intrattori sono dei mezzi di trasporto che traenano varie mezzi all'ocorrente da diversi. Lascio la parola a Dallia Cuttini, che entrerà un pochino più in merito per chi che guarda l'applicazione in vantaggi. Grazie, Romano. Io sono uno sviluppatore di radotecnologi e qui porto l'esperienza e un'attività sperimentale che è stata attentuata, come veramente molti noi hanno già visto, è stata anche evidenziata da Imedia nel periodo dell'anno scorso. Dopo pranzo porterò a quello specifico quelli che sono stati i risultati di questa operazione svolta su 200 ettari, quanto riguarda la lotta biologica, alla piragulosi del picogramma. Qui oggi presentiamo quello che è l'agrodon e nel specifico vi andrò a parlare del payload del picogramma e la distribuzione dei prodotti granulati. Il picogramma, che è un inserto utile, viene incapsulato all'interno di una patina di celluloso sostanzialmente, quindi la difficoltà sta a distribuire poi in maniera precisa, questo prodotto sulla superficie. Il drone è pilotato sempre da un operatore che si supervisiona l'operatività dell'APR, ma viene impostato anche attraverso un tablet quello che è il pian di volo che si permette di andare a compiere e a realizzare dei reticoli di 10 metri, questo per lo specifico. Quindi il picogramma su indicazioni del produttore, in questo caso è un picogramma della Copper, parliamo di una multinazionale, di un punto di riferimento per quanto riguarda la produzione di inserti utili. L'indicazione è stata quella di disperdere il prodotto ogni 10 metri per garantire un'efficacia soddisfacente. Il sistema è dotato di una sua logica, quindi ha una sua centralina, un suo display, ha un suo GPS, ha dei sensori di umidità e temperatura, parlando di inserti utili, dobbiamo ricordarci che comunque parliamo di organismi viventi che devono lavorare in determinate condizioni ambientali di temperatura. Di conseguenza l'apparato è in grado di garantire poi l'efficacia del prodotto, grazie anche alla supervisione di quelli che sono i fattori ambientali circostanti. Come vediamo di fronte a noi abbiamo anche un display che ci permette di avere quello che è un feedback dell'operatività svolta di volo dell'apparato. Quindi dentro dell'apparato io posso sia scaricare dei dati per quanto riguarda il lavoro svolto, il mio wireless, se sia posso sia supervisionare la display, quello che è l'effettiva attività di sgancio svolta e alcuni parametri funzionali. Parliamo della pirale, molti di voi probabilmente sanno quali sono i danni causati della pirale, parliamo della coltivazione del mais, dello specifico e parliamo di perdite che possono anche raggiungere il 30%. Il danno qualitativo non è solo in termini di produzione, ma anche nella contaminazione di quello che è il prodotto finale. Quindi io potrei anche accettare quello che può essere una perdita di produzione, se parliamo di microtossine, entriamo nel merito di un prodotto che potrebbe essere anche scartato dopo per quanto riguarda l'utilizzo sul mercato. Come viene utilizzato il prodotto e come si presenta il prodotto, come abbiamo annunciato prima sono delle capsule contenenti vicino di migliaia di femmine in diverse stati di maturazione, quindi questo prodotto è un prodotto anche abbastanza complesso, come dicevo prima, perché presenta diverse generazioni di questo insetto che vengono prodotte dalla popper, di questo ciclico, la possibilità di intervento in anticipo è per un periodo di tempo prolungato, la dimensione è quella di circa 2 cm. Sono delle capsule che hanno licellulosa, che per esempio hanno una forma che non è perfettamente sferica, di conseguenza si è presentato un problema legato al fatto di poter disperdere in maniera assolutamente precisa questo prodotto senza danneggiarlo e senza bloccare quella che è l'attività da svolgere sulle superfici. Noi grazie alla sperimentazione effettuata su più di 200 ettari abbiamo affrontato tutte queste questioni, siamo arrivati a un risultato finale che è il prodotto che vediamo oggi. Dopo ci sarà una slide che mostrerà anche quello che era il prototipo iniziale che aveva una veste sicuramente diversa e più simile a quello che è un prototipo. Perché utilizzare gli insetti utili? Beh, sicuramente gli aspetti sono molteplici, sicuramente le normative stanno andando verso questa direzione, nella indicazione del mercato dell'utilizzo di quelle che sono le sostanze chimiche, i pesticidi, l'agricoltura, quindi dei parametri che diventeranno le regime sempre più restrittive per quanto riguarda le dimensioni chimiche, controllo di specie, resistenti e i pesticidi, il contrasto sull'azione di psicoterapia, nessun impatto, nessun effetto fitotossico, nessun tempo di carenza, sono tutta una serie di vantaggi molto interessanti e il dato che poi porterò l'autobranza sarà quello del risultato ottenuto in via sperimentale e quello che è l'abbattimento del 70% della popolazione della pirata. I vantaggi? Qua vediamo, ho pronunciato uno che ha uno dei primi prototipi che ha lavorato fisicamente, i vantaggi è il vero danno alla fluttura, applicazione anche di produzione di metodo sfavorevole, vediamo qui la versione definitiva dell'agricoltamento con dei trasportamenti speciali per poter garantire anche il lavoro del drone in condizioni afferse, danno impatto ambientale, parliamo di una macchina elettrica, la possibilità di utilizzo, la macchina dei coordinari, velocità di applicazione, massima precisione di distribuzione, GPS. Quindi, mi spendo due parole sul fatto che questa è una soluzione sicuramente alternativa all'ausilio di quelli che sono i trampoli, i trampoli sono delle palazie piccole che ci permettono comunque di rispargere il prodotto di questa tipologia, il trampolo ha dei costi sicuramente importanti, il trampolo ha detto che comunque tanto o poco va a calvestare quella che è la mia coordinazione. Quindi in questo caso l'APR ha degli indutri vantaggi da questo punto di vista. La coppia stessa, prima dell'ausilio, prima di questa partnership per quanto riguarda la distribuzione del picogramma, anche all'estero utilizzava dei mezzi aerei tradizionali per la dispersione, possiamo immaginare cosa questo volesse dire, cioè la dispersione in maniera massiva per via aerea, a poche più superiori sicuramente ai 20 metri che attualmente vengono indicati per la tua distribuzione del picogramma, prevedeva una dispersione dei prodotti in aree non utili e un assoluto spreco quindi di quello che è il prodotto. Quindi abbiamo in questo caso una precisione garantita dalla GPS nella dispersione e quindi anche un costo beneficio importanti in quanto gli ordini vanno ad utilizzare solo il prodotto necessario. qua c'è una scheda che va a risumere un po' le caratteristiche che vi ho indicato prima, quindi i dati del sistema, un sistema automatizzato gestito da un controltore, alla sua GPS che ci permette di gestire uno scancio automatico. Ecco, mettiamo nel merito poi dell'efficacia, riusciamo a lavorare a 10 m per l'ora, velocità di 8 m al secondo, il mezzo è nel grado di garantire una velocità che arriva a 10 m al secondo, il servatorio ha una capacità di 500 m pezzi, quindi io riesco a disperdere il prodotto su 5 m. La precisione di distribuzione di più o meno un metro, la possibilità del settaggio, ovviamente questo dipende un po' anche dall'architettura, di quello che è la diversa attività, è quella possibilità di ricevere correttamente il segnale, parliamo comunque di, nel continuazione di tutto campo, di spazi aperti, di aerodinutiche, dove comunque la copertura del GPS è sempre grande. La possibilità del settaggio di intervalli di distribuzione con costante al bordo, la possibilità di abito automatica all'aggiungimento della porta per fissata, di distribuzione con il sistema per la specie della visita, porta, sensore di protoggia e una cipollina, grado di protezione come anche l'alto che ho tremato riguarda le potenze. Discuti, di discutenti granulanti, sempre per fissarti, direi che... Se io guardo la presenza, ancora due minuti per proteggere, sarò velocissimo. Allora, vado molto veloce, in maniera similare sempre nella filosofia di avere un sistema flag e flag, un apparato che è stato collaudato nella immagina massiva, nel abito, agricolo ci permette di installare diversi appunti in un momento in cui io ho il quadricottero ho il quadricottero, posso semplicemente scanciare quello che è il pedolo e agganciare in questo caso il pedolo per prodotti granulati quindi io addirittura agricolo o terzista che sia posso utilizzare prodotti di diversa tipologia sotto forme granulati quindi prima abbiamo parlato di capsule di cellulosa in questo caso parliamo di granulati e vado a svelto nel senso che abbiamo caratteristiche simili con la dispersione in prodotti che ha una consistenza diversa e ha anche un volume diverso qui lascio la parola a Tommaso io come detto porterò una caratteristica veloce che voglio ascoltare su quello che è stata l'esperienza a Mantova e con questo vi ringrazio grazie grazie solo per ricordare che come già detto prima questo sistema PR non è unicamente dedicato a spargere prodotti ma anche diciamo da consigliere informazioni e qui vi rilascio ad argomenti già noti legati all'agricoltura di precisione come per esempio l'impiego di spettro camera camera luci spettrali per ricavare varie informazioni tra cui mappe di vigore carenza o eccessiva irrigazione informazioni legate per esempio a eccessivo arricchimento del terreno quindi per poter anche diciamo utilizzare macchine che gestiscono e dosano l'arricchimento del terreno in maniera mirata e tante altre applicazioni l'ultima cosa importante la terreno camera che si integra sempre alla multispettrale ma che può essere utilizzata anche per esempio in ispezioni fotovoltaiche come già detto prima per concludere una parte fondamentale legata alla formazione non tanto solo finalizzata al volo quindi all'impiego ma anche alla conoscenza delle applicazioni di questo mezzo è affidata a un partner sicuramente di eccellenza l'istituto aeronautico Roberto Nobile con cui abbiamo insieme ad Adron stipulato una convenzione e verrà fornita formazione mirata all'impiego di questi mezzi nel rispetto che ha messo la normativa ENET ma soprattutto in riferimento alla capacità di poterli gestire correttamente in ambito del croce ho concluso grazie per il tempo e l'impasto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti